Sembra facile ma non è, perché va ancora a salire, quindi andiamo piano, se è pericolo allungare la allungiamo, se no continuate con quel passo. Quando andiamo su c'è molta gente, perciò per girarla dobbiamo far piano, senza farci male, va bene? Specialmente sotto i cioffi, non girate forte, va bene? Allora, Marchini, Santa Rosa, sento tutti il sentimento? Sì! Siete carichi? Sì! Andiamo? Sì! Tutti insieme, sento conciugno e fermi, fermi, silenzio, tutti insieme, un colpo solo, sollevano e fermi! Sì, arriviamo! Sì! 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 Montro, 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 Montro.